In Sardegna continua a crescere il comparto agroalimentare che conta 3.615 imprese produttrici e un fatturato destinato all'esportazione di 191 milioni di euro. Un trend positivo che è continuato anche nel secondo trimestre del 2016 con una crescita delle imprese artigiane specializzate nella produzione di pasta, pane, dolci, formaggio, carne, frutta, pesce e bevande e che vanta export verso gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Cina. I numeri sull'andamento del settore agroalimentare sono stati elaborati dall'Osservatorio sulle piccole e medie imprese della Confartigianato Imprese Sardegna, che sottolinea come il numero di aziende sia cresciuto di 5 unità rispetto al 2015 mentre le esportazioni sono salite di 12 milioni di euro. Quello che proviene dall'agroalimentare è un segnale molto positivo e ci dice che il settore è ampi margini di crescita sottolinea la Presidente dell'Associazione Maria Carmela Folchetti. Soprattutto se teniamo in considerazione che l'export dei prodotti sardi rappresenta solo lo 0,6% del valore complessivo delle esportazioni alimentari del Made in Italy. Quanto ai numeri nel dettaglio si rileva che il 40,6% delle imprese agroalimentari è situata nella provincia di Cagliari, che l'export è cresciuto del 6,7% e che i primi tre mercati esteri sono gli Stati Uniti, la Germania e la Francia. La provincia più attiva nell'export è Sassari con 83 milioni di euro, seguita da Nuoro con 38. Nonostante i numeri però, sottolinea Stefano Mameli, segretario regionale della Confartigianato, le aziende del settore sono ancora lontane dall'esprimere tutto il proprio potenziale. In un momento storico in cui è sempre maggiore l'attenzione alla genuità e artigianalità degli alimenti, una regione come la nostra deve continuare a investire al fine di conservare e migliorare il suo primato di qualità.